Sta emergendo niente, niente di niente, è quello il problema, che sì tutti si stanno attivando però risultati non ce ne sono. Io ringrazio tutti quanti, sia l'amministrazione comunale, sia le associazioni per quello che stanno facendo per Sara, però mi rivolgo soprattutto a quelli che hanno preso Sara di lasciarla libera.